con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Buonasera a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo. Ricordando a tutti che sabato 23 giugno saremo presso il Bosco Sacro di Esolo a celebrare il rito della conoscenza e sostizia d'estate, andiamo in via la trasmissione di questa sera che è anche abbastanza intensa come solito del resto e tratteremo però un problema sociale, un problema di natura organizzativa, di come si organizza la società civile. Come Pagani noi abbiamo una visione della vita, abbiamo una visione della società, ma non abbiamo una verità, cioè nel senso che abbiamo una visione di quello che sarà il futuro, quello che può essere il futuro, quello che potrebbe essere rispetto a ciò che individuiamo, che non è buono ciò che è, ma non abbiamo una verità da proporre. Però sappiamo salvare il mondo che ci circonda e sappiamo essenzialmente anche valutarlo in maniera attenta. Il testo di questa sera che vorrei farvi portare la vostra attenzione è la negazione della Costituzione della Repubblica Italiana dalla monarchia assoluta allo Stato mafia. Questo pezzo che adesso vado a leggervi è un pezzo già presente in internet ed è anche abbastanza aperto. Per cui vi ricordo che tutti i nostri pezzi stanno in internet, ormai ci sono oltre mille pagine pagane di tutti gli argomenti possibili che abbiamo potuto trattare in questi anni e praticamente vengono aperte circa, direi, mille, mille, duecento pagine al giorno per circa duemila, duemila, duemila e cinquecento accessi e alcune centinaia di persone tutti i giorni vengono sui nostri siti a leggere. Gli ultimi pezzi che sono stati caricati sul sito www.stragoneriapagana.it è un'analisi del significato sociale, del significato etico, del significato personale, del significato morale che hanno le istruzioni agli apostoli di Gesù scritte in Matteo. Le stesse istruzioni chiaramente le trovate divise in maniera diversa nel Vangelo di Luca e altri in Vangelo di Marco. Però ho preso lo schema di Matteo per analizzarle e ne ho analizzate versetto per versetto, cioè indicazione dottrinale per indicazione dottrinale e ne sono venute fuori sedici pagine il cui titolo è quello dei versetti dei Vangeli e analizzano il significato, cioè cosa significa l'ordine di Gesù dato agli apostoli e quali effetti ha avuto nella storia. Ebbene, anche questi hanno avuto centinaia di visite e stanno circolando in maniera massiccia in Internet. Tra ripetere su Internet trovate tutto, comprese queste trasmissioni e l'archivio di circa 5 anni di trasmissioni radiofoniche dai microfoni di Radio Gamma 5. Credo che Franco sia riuscito a caricare fino al 2001, insomma stia caricando il 2001, e per ogni trasmissione elenca argomento per argomento. Ci sono almeno 20 università italiane e almeno 3 o 4 straniere che vengono sistematicamente ad ascoltare queste trasmissioni, perché grazie ai contatori, il tipo di controllo che abbiamo, sappiamo anche in buona parte, non tutte le persone, perché molte non sappiamo da dove vengono o chi siano, però molti servizi Internet riusciamo a capire da dove vengono le persone e come stanno navigando e cosa stanno cercando, con che frasi sono arrivate e in effetti i siti hanno un'importanza veramente eccezionale. Per cui se volete sapere anche altre cose, torno a ripetere, cercate su Internet e trovate tutto quello che noi abbiamo potuto, lo abbiamo caricato. I siti principali sono www.federazionepagana.it www.stragoneriapagana.it www.federazionepagana.com In federazionepagana.com trovate tutte le trasmissioni radiofoniche fatte su Radio Gamma 5 negli ultimi 5 anni. So che Franco sta andando ultimi 5, calma, ultimi 6 anni, perché siamo al 2001 che sta caricando e ha caricato già il 2007. Per cui trovate trasmissione per trasmissione con tutti gli argomenti trattati nella trasmissione. La negazione della Costituzione della monarchia assoluta allo Stato mafia. Per comprendere la Costituzione della Repubblica Italiana come le Costituzioni dei Paesi Occidentali è necessario comprendere il principio di fondo che regola lo Stato Democratico. Lo Stato Democratico Costituzionale emerge come esigenza di libertà dall'assolutismo della monarchia assoluta. L'essere umano in quanto individuo è l'oggetto del contendere della monarchia assoluta e dello Stato Democratico. Le contraddizioni sociali del XX secolo hanno spinto le società a mettere al centro delle loro decisioni l'uomo quale soggetto di diritto. il singolo individuo è il portatore di diritti costituzionali per contro gli Stati con le loro istituzioni sono diventati soggetti portatori di doveri nei confronti dell'uomo. Questa trasformazione giuridica è maturata all'interno dei sistemi sociali e in cui gli uomini venivano e vengono educati secondo i principi della monarchia assoluta. Se la struttura giuridica si è trasformata non si è trasformato il sistema educativo e il sistema di controllo dello Stato nella società. Ad una Costituzione della Repubblica non ha corrisposto un adeguamento del sistema educativo e della struttura istituzionale. Lo Stato assolutista monarchico continua ad agire sulla struttura psicoemotiva delle persone in assoluto disprezzo della Costituzione della Repubblica. In questa situazione oggettiva si sviluppano delle contraddizioni che sfociano spesso in contrapposizione. Da un lato le persone legate allo Stato rivendicano i diritti di cui sono portatori anche nelle piccole cose quotidiane e dall'altro lato coloro che detengono una funzione o un potere istituzionale che negano quei diritti per mettere se stessi concetto proprio della monarchia assoluta al di sopra dei diritti socialmente determinati. Queste contrapposizioni generano spesso conflitti sociali molto grandi partendo da situazioni che allo spettatore appaiono insignificanti o marginali. Una società è fatta di singoli individui è fatta di micro relazioni micro relazioni nelle quali si devono riversare i principi costituzionali. Quando questo non avviene è perché le istituzioni applicano i principi costituzionali a se stesse privando i cittadini di tale diritto. Con l'avvento delle costituzioni le persone passano dallo status di sudditi persone con il diritto a dovere di obbedire alle istituzioni allo status di persone che hanno pari dignità delle istituzioni davanti rispetto alla legge. Quando ciò è avvenuto cioè quando fu approvata la costituzione della repubblica le istituzioni furono impegnate a difendere i propri privilegi di potere nella società italiana innestando un processo sociale in cui i diritti costituzionalmente determinati rimanevano carta straccia e usati semmai per deridere e denigrare le persone mentre nella società proprio partendo da una difesa di privilegi caratteristici della monarchia assoluta veniva costruendosi un nuovo modello di società la società mafia o se si preferisce la società delle lobbies solo che io per le vessazioni imposte ai cittadini preferisco definirla per ciò che viene recepita e percepita dai cittadini la società mafia i diritti costituzionali non venivano attribuiti ai cittadini ma alle associazioni mafiose costringendo i cittadini ad aderire ad esse lo stato democratico nato da una costituzione diventava lo stato delle associazioni mafiose l'ordine degli avvocati l'ordine dei giornalisti sono associazioni mafiose che assumendo su di sé i privilegi di fatto privano i cittadini dei diritti che la costituzione garantisce loro se l'avvocato dovrebbe assistere tecnicamente il cittadino nelle questioni giuridiche in realtà diventa il guardiano contro il cittadino affinché non possa rivendicare i propri diritti costituzionali davanti alla legge e il giornalista che dovrebbe essere colui che fa conoscere fatti ed opinioni in realtà si trasforma in un censore al fine di impedire la circolazione delle idee e dei bisogni dei cittadini privandoli dei loro diritti costituzionali i magistrati che dovrebbero agire per applicare la legge nei termini in cui la costituzione obbliga di fatto applicano la legge che vogliono seguendo i casi che vogliono commettono reati certi di rimanere impuniti e il tutto seguendo i propri interessi personali mafia diventa l'associazione degli industriali come mafia sono i sindacati dei lavoratori dove l'associazione degli industriali chiede che ai cittadini non siano garantiti i diritti costituzionali specialmente in relazione alla gestione delle aziende e i sindacati dei lavoratori impediscono ai cittadini di esercitare i propri diritti costituzionali in relazione al lavoro che svolgono centinaia di morti e feriti sui posti di lavoro stanno ad indicare questo comportamento mafioso lo so che si può obiettare con la presenza di comportamenti eroici di singoli magistrati di singoli poliziotti di singoli industriali di singoli avvocati eccetera ma questo non conta il loro comportamento eroico suona come un insulto ai cittadini un insulto che le istituzioni usano per giustificare la loro attività illegale grandi cerimonie faranno le istituzioni con grande sfarzo al fine di occultare la loro attività quotidiana di devastazione sociale con l'avvento della costituzione non sono stati riconosciuti i diritti ai cittadini ma si è aperto il terreno all'avvento dello stato mafia la stessa legge Biagi è un atto di mafia attraverso il quale si negano i più elementari diritti ai cittadini permettendo ad organizzazioni mafiose di vessarli torturarli fare commercio di cittadini sottoporre i cittadini al ricatto l'avvento della costituzione della Repubblica italiana ha traghettato la società civile verso una deriva mafiosa una deriva mafiosa partorita dal fatto che le persone delle istituzioni sono state educate sotto la monarchia assoluta i diritti dei cittadini vengono dichiarati pubblicamente ma nei fatti i cittadini devono rinunciare ai propri diritti in funzione delle mafie che detengono il controllo sociale politico religioso ed economico del paese le leggi sono fatte solo per impedire ai cittadini di esercitare i loro diritti sociali ai cittadini vengono impediti i diritti che invece vengono riconosciuti alle mafie che hanno il potere di imporli nelle relazioni all'interno dello stato mafia alle altre organizzazioni mafiose mediando a seconda dei rapporti di forza che si vengono a creare è un po' quello che è avvenuto fra il governo Berlusconi in carica negli ultimi cinque anni e l'attuale governo Prodi per entrambi gli schieramenti i cittadini sono solo oggetto del contendere bestie delle quali contare i voti il governo Berlusconi ha agito all'interno di concezioni di monarchia assoluta mettendo in grave difficoltà la situazione sociale ed economica del paese più preoccupato a coltivare la propria immagine di Dio onnipotente il governo Prodi si trova nella situazione di dover affrontare una situazione economica grave e lo fa nell'assoluto disprezzo dei diritti dei cittadini il governo Prodi ha spesso lamentato di non comunicare coerentemente quello che fa questo non è vero il governo Prodi si comporta come un governo di gestione di interessi mafiosi e una consapevolezza allucinatoria che gli interessi mafiosi che gestisce siano in realtà gli interessi dei cittadini mentre il governo Berlusconi aveva la consapevolezza di essere strano agli interessi del paese e legiferava come un'organizzazione mafiosa in sé mai un interesse dei cittadini è mai stato preso in considerazione se non quando coincideva con gli interessi di Berlusconi stesso il governo Prodi è consapevole di manifestare interessi di varie mafie presenti nel paese e di dover mantenere un equilibrio fra i vari interessi mafiosi vedete ad esempio le finalità del decreto Bersani e le reazioni al decreto Bersani stesso da qui la distanza fra il governo Prodi e i cittadini che l'attuale opposizione si accinge a sfruttare nelle prossime scadenze legislative se i cittadini quando il governo Berlusconi era al potere avevano la percezione immediata della distanza che esisteva fra gli interessi del governo Berlusconi e i loro interessi ponendo nella coalizione di Prodi le loro aspettative ora si scorgono la distanza che esiste fra le loro attese e le priorità che il governo Prodi sta affrontando priorità delle varie mafie e non le priorità dei cittadini queste mafie rappresentano i cittadini il problema è che i cittadini spesso sono costretti ad organizzare i loro interessi all'interno delle mafie ma il cittadino comunque è cosa diversa dalla mafia in cui organizza parte dei suoi interessi se l'ordine dei giornalisti o l'ordine degli avvocati intesi come ordine sono un'organizzazione mafiosa non tutti gli avvocati sono mafiosi se non toglie che tutti i cittadini siano militarmente obbligati a ricorrere agli avvocati e a sottostare alle loro fregole e alle loro paranoie nelle relazioni giuridiche in considerazione di un'organizzazione sociale che priva i cittadini della norma giuridica e della corretta interpretazione della norma stessa in pratica si obbligano militarmente i cittadini a studiare le regole della monarchia assoluta che vengono fatte passare come principi morali e si impedisce ai cittadini di conoscere i codici penali a fondamento della loro vita pertanto le mafie non rappresentano i cittadini ma i cittadini sono costretti per vivere ad aderire alla mafia c'è un'obiezione di ordine morale che sicuramente verrà sollevata dagli ipocriti come si può chiamare mafia quell'organizzazione a cui apparteneva Borsellino in contrapposizione a quella che comunemente viene definita mafia e alla quale appartenevano persone come Totò Reino o Provenzano io non entro nelle questioni di gestione della propaganda con la quale si controllano le persone nella società come cittadino sono il più indignato del sequestro di persona tipo Enzo Tortora che non del sequestro del mafioso siciliano questo perché il cittadino vede tradita la sua fiducia ad opera dello Stato che dovrebbe essere sottomesso alla Costituzione mentre nel mafioso siciliano vede il nemico che dovrebbe essere sconfitto un sistema giuridico costituzionale è fatto di diritti e di doveri è fatto di diritti e di doveri nei confronti dei cittadini quando si tentò di distruggere le istituzioni di questo paese si parlava di servitori dello Stato prendendo la dicitura dal sistema giuridico della monarchia assoluta era lo Stato come nella monarchia assoluta al centro degli interessi giuridici e non i cittadini il concetto secondo cui lo Stato non ha doveri verso i cittadini è stato un vero e proprio colpo di Stato che partendo da una condizione educazionale alla quale l'individuo è sottoposto veniva trasferita nelle istituzioni dominare i cittadini è un problema della monarchia assoluta fare delle leggi affinché i cittadini facciano è un comportamento da monarchia assoluta la situazione sociale nella quale stiamo vivendo è pregna di un grande numero di contraddizioni e contrapposizioni dovute da un lato all'enunciazione dei diritti dei cittadini e cioè crea aspettative e dall'altro lato alla loro negazione mediante leggi e atti di terrore quando i cittadini devono scegliere fra una coalizione di governo o un'altra coalizione si trovano a decidere fra diversi interessi mafiosi a cui loro sono comunque estranei e quei sistemi mafiosi usano l'illusione per attrarre i loro voti i cittadini sono estranei alla gestione della politica pur riversando aspettative sull'uno e sull'altro schieramento a seconda di come viene manipolata la loro attenzione dice Berlusconi il governo Prodi è il governo delle tasse si dimentica soltanto che è il governo Berlusconi ad aver aggravato la situazione debitoria del paese al punto tale da aver aggravato i conti dello Stato il governo Berlusconi ha aumentato lo schiavismo sociale privando i cittadini di diritti elementari il governo Prodi non solo non ripristina i diritti né li aumenterà ma nemmeno metterà in atto strategie attraverso le quali le persone siano consapevoli dei loro diritti a nessun cittadino è concesso di rivendicare giustizia se non passa attraverso i sistemi mafiosi se non soddisfa il terrorismo dei magistrati stessi la chiamano mala sanità la chiamano mala giustizia la chiamano mala amministrazione ma si tratta di risultato di atti di mafia atti di eversione che le persone che appartengono alle istituzioni fanno per esercitare il proprio diritto al possesso mafioso nei confronti dei cittadini il governo Prodi come ha fatto il governo Berlusconi alimenterà e proteggerà i comportamenti mafiosi per disprezzo nei confronti dei cittadini mi sembra che quello che ha fatto Zeronato qui a Padova sia evidente il disprezzo dei cittadini i cittadini diventano importanti solo quando devono mettere il loro voto nell'urna così un alunno potrà avere una buona preparazione soltanto se incontrerà degli insegnanti consapevoli dell'importanza dei diritti non certo perché lo Stato gli garantisce i diritti di cittadino che gli vengono negati in maniera tanto violenta da costringerlo a comportamenti bullisti e spesso a crimini come negazione soggettiva come reazione soggettiva alle azioni mafiose che subisce ad opera delle istituzioni è la Costituzione negata lo Stato mafia è la Costituzione negata è stato il capolavoro di De Gasperi Fanfani Aldo Moro Andreotti Longo Togliatti Nenni Lamalfa Pertini Craxi ma anche dei giornalisti Tambroni Trabucchi Rumor potremmo fare l'elenco all'infinito ma anche dei giornalisti come Giorgio Bocca come Eugenio Scalfari come Biaggi o Montanelli e tutti gli altri o degli intellettuali come Umberto Eco e Dario Fo distruggere la società civile in funzione dell'esaltazione mafiosa l'esaltazione mafiosa dei partiti dei sindacati degli industriali degli stupratori di bambini come Giovanni XXIII Polo VI Voitila i nomi sono presi ad esempio di varie bande che hanno operato per distruggere la Costituzione questi nomi sono presi perché le azioni fatte da queste persone sono stati atti di violenza che io ho vissuto diventando pertanto consapevole del significato delle loro azioni negare al cittadino di essere un soggetto di diritto costituzionale sottomettere il cittadino al controllo di centri mafiosi dal sindacato al comune ai vigili urbani alla scuola al terrore dei magistrati ciò che è stato distrutto non sono le enunciazioni di principi della carta costituzionale ma i principi stessi il loro essere parte attiva nella società tutte istituzioni che avrebbero dovuto essere al servizio dei cittadini e che hanno con una violenza ricondicibile soltanto alla mafia o al terrorismo scegliete voi costretto il cittadino ad agire in funzione di se stesse dove il terrore passava per l'interpretazione soggettiva del magistrato criminale che applicava le leggi secondo la sua voglia di potere di controllo sociale poi il magistrato parlerà dei tempi lunghi della giustizia è invece lui che ferma la giustizia per i suoi interessi personali spesso è sufficiente che una questione appaia in un servizio televisivo perché le procedure si accelerino misteriosamente saltano fuori gli incartamenti come misteriosi come misteriosamente appaiono i controlli sulla situazione igienica degli ospedali dopo un servizio sul settimanale l'espresso o striscia notizia migliaia di vessazioni che i cittadini sono stati costretti a subire in privato ad opera delle istituzioni che dovevano garantire i loro diritti un lavoro decente oggi come ieri i cittadini lo possono avere soltanto con una raccomandazione del politico mafioso di turno come ieri il prete cattolico dava la raccomandazione per il posto di lavoro al fine di affamare la società civile e garantire il benessere soltanto ai suoi sottoposti decine di migliaia di cittadini sono costretti a subire vessazioni di caporalato di ricatto pur di avere uno stipendio o anche semplicemente per avere una pratica sbrigata mi sembra che striscia notizia ne abbia fatta vedere più di qualcuna di queste scene per capire per capire che cosa intendo per mafia a parte le migliaia di esempi vissuti personalmente che potrei portare dal tentativo di colpo di stato dei primi anni settanta alle torture dei magistrati ai loro falsi in atto pubblico è sufficiente il fatto riportato dei quotidiani oggi cioè il giorno che ho scritto questo pezzo dice non è reato scaricare film dal web si tratta di una sentenza della corte di cassazione che ha assolto dei ragazzi che scaricavano materiale e lo mettevano a disposizione di altri ragazzi i ragazzi erano stati condannati a tre mesi di reclusione dai magistrati di torino che hanno agito seguendo i loro interessi personali non si tratta di interpretazioni anche se col termine interpretazioni vengono giustificati gli interessi personali ma di vero e proprio a servimento ad una mafia in contrapposizione alla costituzione della repubblica questa mafia ha dichiarato alla sentenza della soluzione riprendo dal quotidiano il gazzettino contestando la dichiarazione della corte della suprema corte in cui si affermava che non c'era lucro nello scalico dei materiali scusate un attimo forse ho letto qualcosa di sbagliato non si tratta non si tratta di interpretazioni anche se col termine interpretazioni vengono giustificati gli interessi personali ma di vero e proprio a servimento ad una mafia in contrapposizione alla costituzione della repubblica questa mafia sto parlando di magistrato di torino ha dichiarato alla sentenza questa mafia ha dichiarato alla sentenza della soluzione riprendo dal quotidiano il gazzettino contestando la dichiarazione della suprema corte in cui si affermava che non c'era lucro nello scarico dei materiali in base al nostro sistema giuridico dicono i mafiosi ogni scambio di per sé procura un vantaggio economicamente apprezzabile a favore di quanti lo compiono quindi lo scarico anche se privo anche se privo di un passaggio di moneta deve considerarsi lucrativo e quindi preclusivo della libertà di uso in pratica secondo l'opinione di questa organizzazione sto parlando dei magistrati di Torino la diffusione della cultura in questo paese deve essere impedita se non apporta alla loro organizzazione un vantaggio economico da cui si deduce che la diffusione della cultura può essere interrotta se non apporta a loro un vantaggio economico i magistrati di Torino astante queste dichiarazioni dovevano sottoporre a giudizio la SIAE per attività eversiva nei confronti della società civile ma hanno preferito rendere difficoltosa la vita a due ragazzi mettendo in discussione i loro diritti costituzionali a proposito di questo vi ricordo che c'è una dichiarazione del Parlamento europeo in cui si dice che lo scarico dei materiali da internet dai giornali da qualsiasi pubblicazione deve essere assolutamente gratis è garantito qualora chi li scarica e a sua volta li diffonde non lo fa per fini di lucro chiuso parentesi un altro esempio per comprendere come avviene l'attività di mafia in contraposizione alla Costituzione è la vicenda in questo paese delle radio liberi nel 1974 alcune persone rischiarono la galera per assicurare la libertà di informazione sfidarono le mafie che controllavano l'informazione radiofonica quando la Corte Costituzionale sentenziò a loro favore gli sciocchi si illusero gongolandosi in quella libertà chi era addestrato a sottrarre la libertà alle persone agì per il proprio profitto iniziando nel 1978 con la tv via cavo ci si apre uno spazio in un controllo mafioso e c'è già chi è addestrato a costruire un'altra forma di controllo mafioso della Costituzione della Repubblica non frega nulla a nessuno ma soprattutto troppe mafie agiscono affinché non sia applicata si dice normalmente deve essere regolamentata non si deve lasciare al caos il che significa si deve far nascere una nuova mafia non si deve consentire alle persone di esercitare i loro diritti lo stato mafia è una forma di stato di transizione e lo stato di transizione fra lo stato monarchico assoluto in cui i principi sono oggi ostentati dalla chiesa cattolica e dai cristiani in generale allo stato costituzionale che fino ad oggi è tale soltanto nelle parole di Pericle un eco antico capace di attrarre il sentimento emotivo delle persone ma che viene vilipeso ed offeso dall'istituzione in questo paese tese ad assicurare vantaggi costituzionalmente illegittimi a danno dei diritti che la costituzione che almeno nominalmente concede loro uno stato di transizione che può riportare la società civile all'interno della monarchia assoluta e alla ricostruzione dei campi di sterminio i cittadini oggi come oggi non decidono fra delle idee o dei modi di vivere nella società rappresentati da partiti politici che si schierano a destra o a sinistra ma devono decidere attraverso quale forma mafiosa vogliono che venga gestita la società lasciando intatte tutte le strutture mafiose che costituiscono il fondamento della mafia sociale così anche se il così anche se il governo prodi agirà per sistemare i conti pubblici le mafie che impediscono i cittadini di essere portatori di diritti costituzionali non vengono intaccate non solo ma coloro che hanno agito per impedire la società civile di diventare una società costituzionale verranno celebrati intitolando loro strade piazze e quant'altro e il governo Berlusconi potrà contrapporre il proprio essere mafia alla mafia del governo prodi perché ciò che entrambi non attueranno anche a costo di uccidere i cittadini sarà la società costituzionale cioè quella società che asservita la costituzione metterà al centro dell'agire di ogni individuo i principi costituzionali stessi grazie al fatto che ogni cittadino può davanti ad ogni altro cittadino rivendicare i propri diritti costituzionali consapevoli che le istituzioni hanno come obiettivo prioritario come loro dovere la difesa dei suoi diritti rimani da definire il che fare che fare in questa situazione che fare in una situazione in cui le mafie sono pronte a qualunque delitto pur di mantenere inalterati i loro privilegi se dite al Consiglio Superiore della Magistratura che un magistrato ha agito in modo tale da mettere in atto un sequestro di persona il Consiglio Superiore della Magistratura vi risponderà che non è di sua competenza non gliene può fotter più di tanto anzi non gliene frega niente per contro la Corte di Cassazione condannerà quel cittadino che non ha prestato soccorso adeguato in caso di incidente in caso di incidente per il singolo individuo deve essere affare suo per il Consiglio Superiore della Magistratura non è affare suo questo è il passaggio dalla monarchia assoluta allo Stato mafia questo testo è stato messo in internet il 21 gennaio di quest'anno per cui lo potete chiaramente prendere e scaricare prendere e scaricare in qualunque momento in qualunque momento e lo potete avere questi concetti che io vi ho espresso questi concetti che io vi ho espresso sono concetti che sono abbastanza normali perché anche se anche se non vengono usate anche se non vengono usate le mie stesse parole Zagrebelsky in due in due scritti parla uno che vuole parlare è dello Stato monarchico e dice Zagrebelsky benché i delitti siano per loro natura tutti pubblici si distinguono quelli propriamente pubblici da quelli privati così chiamati perché offendono più un privato che non l'intera società ora nelle repubbliche i delitti privati sono più pubblici nel senso che colpiscono di più la costituzione dello Stato che non i privati nelle monarchie i delitti pubblici sono i delitti pubblici sono più privati nel senso che colpiscono più le fortune private che la costituzione dello Stato stesso vi prego che nessuno si offenda continua Zagrebelsky cosa vuol dire questo vuol dire che se io do dell'idiota al mio amico definendo l'idiota non sto soltanto offendendolo ma sto ledendo la sua persona e la sua dignità come persona è un principio costituzionale bene nella monarchia assoluta se qualcuno dà dell'idiota a un altro allo Stato non gli ne frega niente perché per lo Stato per la monarchia sono tutti idioti se voi avete assistito alla ringa di un pubblico ministero 30 anni fa io ne ho assistito tra più di qualcuno perché me ne hanno fatte anche contro il pubblico ministero insultava il cittadino lui si permetteva il lusso di insultare pesantemente usare epitetti offensivi nei confronti della persona che lui riteneva colpevole perché era una non persona ed era quell'oggetto privo di diritti proprio della monarchia assoluta cioè il pubblico ministero agiva come il diritto del re di stuprare le persone perché era tanto era una roba sua e tutto questo ha inquinato la società perché mentre nella società democratica l'atteggiamento del poliziotto rispetto al cittadino è una relazione che sta all'interno della costituzione nella società monarchica la relazione fra il poliziotto e il cittadino è una relazione fra il re e il suddito come Dio e come il re è re per volontà di Dio così il poliziotto è poliziotto per volontà di Dio e tu modere il linguaggio che è una cosa un atto di terrorismo che fanno spesso i poliziotti proprio per avere il controllo delle persone un atto di terrorismo un atto di vigliaccheria non si dice una persona modere il linguaggio il linguaggio è proprio della persona è parte di espressione della persona ed è un atto di terrorismo contro la costituzione dire a una persona modere il linguaggio sopra che tu sei un poliziotto e sei armato oltretutto è un atto di terrorismo ebbene questa è la riproposizione nella società attuale dei principi della monarchia assoluta che sono i principi cattolici che sono i principi di Ratzinger monarchia assoluta e le relazioni che esistono fra le persone Zagrebelsky che è sempre un cristiano perché Zagrebelsky comunque va considerato per quello che è cioè nel senso che è un cristiano e le sue categorie di giudizio comunque sono categorie di giudizio cristiani parlando dell'uomo nella nella società democratica lui non riesce a vedere gli obblighi delle istituzioni lui vede solo i diritti dei cittadini però a un certo punto dice sto prendendo da imparare la democrazia di Gustavo Zagrebelsky si può rispettare in sé la propria dignità e così negli altri ma ugualmente ci possono essere ragioni per disprezzare sé e gli altri ragioni personali che affondano le loro radici nelle storie individuali ma anche ragioni universali come ad esempio quelle offerte da quelle religioni che annichiliscono l'essere umano di fronte alla divinità e predispongono così le premesse per forme di governo teocratiche o autocratiche su base religiosa insomma le pretese dei singoli e delle organizzazioni politiche che essi costruiscono di governarsi da sé non è scontata ma deve giustificarsi continuamente di fronte ai poteri non democratici che di volta in volta nel tempo ne contestano la legittimità anche a questo proposito la storia meno recente della Chiesa Cattolica e dei suoi rapporti con l'autorità politica è istruttiva d'altra parte il rispetto di sé e degli altri è sempre esposto alla pressione della stanchezza la democrazia come un lavoro stanca l'oppressione dispotica suscita reazione e ribellione la democrazia invece suscita stanchezza le virtù democratiche è cosa penibile come annotava già Montesquieu la virtù politica della democrazia è una rinuncia a se stessi ciò che è sempre molto faticoso da sopportare questa affermazione di Montesquieu che Zabraveschi usa Montesquieu parte dal fatto che il potere di possesso è un potere centrale dell'uomo per cui lui ritiene partendo dal potere di possesso che la virtù politica è una rinuncia a se stessi cioè è una rinuncia al proprio potere di possesso ma Montesquieu è sempre un cristiano e non vede i vantaggi invece di essere delle persone sociali ciò che è sempre molto faticoso da sopportare questa virtù consiste nella preferenza continua dell'interesse pubblico agli interessi propri dunque rispetto agli istinti egoistici degli esseri umani essa se non proprio una cosa contro natura è almeno una sfida che si devono tenere continuamente viva nei confronti dei loro interessi immediati in realtà non è una sfida contro natura è una sfida contro il condizionamento educazionale imposto dai cattolici che ti costringono a pensare le persone come degli oggetti di possesso o tu posseduto del padrone il pazzo di Nazareth a un certo punto dice non si può servire Dio e la mammona Dio e la ricchezza bene il possesso l'uomo che serve un padrone Dio o un padrone la ricchezza e se sembra due cose non so neanche come le usano comunque sta di fatto che è l'uomo che serve e Dio possiede l'uomo la ricchezza possiede l'uomo ma fuori dalla relazione di possesso esiste un universo di relazioni è solo il condizionamento educazionale che ti pone in queste condizioni per quanto riguarda poi tanto per concludere il discorso il discorso dello Stato Mafia io voglio farvi un esempio di come lo Stato Mafia ha distrutto e saccheggiato la società civile e ve lo faccio esattamente con l'articolo 402 del codice penale attenzione voi sapete che quando entrate in vigore la Costituzione il codice penale che è il vecchio codice fascista il codice rocco viene preso to court cioè con una legge venne introdotto nella società civile cioè la società fu sottoposta al codice penale ebbene praticamente è come se si fa una Costituzione che ti dà dei diritti ma io poi i diritti te li strappo e te li rubo attraverso l'imposizione del codice penale ebbene quando avvenne questo cioè quando fu fatta questa operazione c'era l'articolo 402 del codice penale l'articolo 402 del codice penale parla di vilipendio alla religione dello Stato e dice chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino ad un anno ok e questo era giustificato con l'articolo 7 della Costituzione ripeto ancora l'articolo 400 dice chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino ad un anno bene questo articolo 402 del codice penale la corte costituzionale con sentenza numero 508 del 20 novembre 2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo facciamoci due contini allora il cattolicesimo organizzazione criminale viene assunta come religione dello Stato ma ciò costituzionalmente è illegittimo questa illegittimità viene imposta mediante il codice penale dal 1948 al 2000 sono passati 52 anni i cittadini sono stati torturati da magistrati da poliziotti e dalle istituzioni per 52 anni gli è stato imposto il concetto che l'organizzazione criminale denominata chiesa cattolica fosse la religione di Stato questo si chiama terrorismo ora la corte costituzionale ha un solo possibilità ha la possibilità di cancellare le norme che non siano in regola le norme che non siano in regola con la costituzione le può solo cancellare ma il parlamento avrebbe dovuto cancellare immediatamente l'orrore di una norma che imponeva l'organizzazione criminale chiesa cattolica come regione di Stato perché ciò costituzionalmente è illegittimo il parlamento è venuto meno il suo dovere nei confronti dei cittadini il parlamento ha fatto un atto di terrore nei confronti dei cittadini italiani offendendo la costituzione della repubblica chiaro qui non siamo in una monarchia assoluta dove nessuno può criticare il re e tutti devono fare quello che vuole il re è chiaro questo bene questo è dunque la nostra costituzione negata la negazione della costituzione della monarchia assoluta allo stato mafia io ve l'ho fatta questa sera e se voi volete ve lo scaricate in internet vi ricordo che sono Claudio Simeoni meccanico apprendista Stragone guardiano d'anticristo il mio indirizzo è piazzale parmesan Otto Marghera ciao a tutti io vi do appuntamento fra diciamo una settimana 049 600 600 049 600 838 vi do appuntamento settimana prossima giovedì ci sarà Francesco che porterà avanti le trasmissioni e poi fra 15 giorni ci saranno le trasmissioni vi ricordo che sabato 23 giugno presso il bosco sacro di Jesu terremo il larito del sostizio d'estate e con questo vediamo un attimo pronta eh sì grazie bello buona giornata ciao 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 bene saluta a tutti e ci risentiamo in internet o ci risentiamo per radio fra 15 giorni e giovedì prossimo troverete Francesco ciao 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 grazie a tutti Grazie a tutti.